Nuovi esami medico-legali sono stati fissati per la prossima settimana nell'inchiesta sull'omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi uccisa dal fidanzato 30enne Alessandro Impagnatiello, che l'ha colpita con almeno 37 coltellate e ha fatto ritrovare dopo 4 giorni il corpo, gettato vicino a dei box a Senago nel Milanese, non distante dall'abitazione della coppia. Per il 5 luglio il pool di consulenti nominati dall'Aggiunto Letizia Mannella e dal PM Alessia Menegazzo ha fissato all'Istituto di Medicina Legale di Milano i accertamenti tecnici ripetibili su feto e placenta con campionamenti istopatologici. L'autopsia è stata effettuata lo scorso 9 giugno e nel frattempo sono iniziate una serie di analisi necroscopiche, i cui esiti definitivi potrebbero essere depositati a metà luglio. Da tutti questi esami dovrebbero emergere inoltre risposte sulle coltellate inferte, almeno 37 in totale, sull'esatta dinamica dell'aggressione, con Impagnatiello che pare abbia sorpreso la giovane alle spalle tagliandole la carotide e su quali e quanti fendenti sarebbero stati inferti quando la giovane era già morta, oltre a risposte sulla morte del feto e su un eventuale avvelenamento, anche perché al barman trentenne sono state sequestrate confezioni di veleno per topi.